E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Roid e oggi abbiamo una build che non mi aspettavo fosse così forte. L'ho fatta tanto per vedere questa versione 2.0 come sarebbe andata e mi ha assolutamente stupito, non mi aspettavo funzionasse così bene. E quindi sono qui a presentarvi oggi Volter Zane 2.0. La serie Volter l'ho fatta mesi fa all'uscita dello scudo Revolter per mostrare quanto poteva abbaffare ogni singolo personaggio a parte Moose e a quanto pare con le carte della Crypto Zane è diventato ancora più forte con quella build. È una cosa sbagliata. Quindi come funziona? Lo scopo principale della build è utilizzare lo scudo Revolter che va a triplicare i danni aggiungendo un 200% di danni elettrici e tutto quello che facciamo. romperlo con l'abilità d'azione, nel nostro caso il cannone, e utilizzare solo quella per eliminare i nemici. Ci sono due armi, una Mag e una Monarch, che servono nel caso finiamo a terra, perché da terra non si può usare l'abilità d'azione purtroppo. Ma a parte quello, per il resto terremo sempre in mano la Guardian Angel che va fino a quintuplicare i danni che facciamo in base alla distanza. e come aggiunta extra, oltre alla Guardian Angel, abbiamo una Cloning Maddening Tracker con la consacrazione che rigeneriamo una granata ad ogni abilità d'azione. Quindi ogni volta che tireremo un colpo di cannone, avremo una Cloning Maddening Tracker da poter lanciare. Avremo circa un secondo e uno di cooldown del cannone, anche meno mentre le Maddening Tracker staranno facendo danno in giro. Quindi le potremo veramente spammare e lanciare. Servirà avere due dita su FG per le granate o dove le avete messe nel vostro idastri, oltre ad avere WASD. Come Reliquia abbiamo una Victory Rush Ice Breaker, quindi avremo un 18% di danno che va ad aggiungersi sia alle granate sia al danno abilità d'azione, dopo aver ammazzato, diciamo, un nemico duro. In più, visto che il cannone è congelante, abbiamo danno gelante bonus per il cannone, efficacia gelo, così congeliamo i nemici, se no li sciottiamo in un colpo, e nel caso non siano morti in un colpo, ma siano rimasti congelati, l'Ice Breaker ci va a dare un 50% di danni bonus contro quelli che schifo non ci fa. In più è un Godroll con anche il tempo di ricarica d'azione. Mod di classe, invece, era un po' indeciso, ho detto, voglio fare qualcosa di un po' diverso dal solito, senza andare sempre sulle solite. E quindi ho deciso di andare di Spy. Spy che, se spammiamo il cannone, l'ultimo spam va ad attivare tutte le abilità d'uccisione. Inoltre va a potenziare del 10% tutte le abilità d'uccisione, che già attiveremo, come vedremo, con le abilità, e fa durare di più. E più è un Godroll. Danno abilità d'azione, tempo di ricarica e danno abilità d'azione, e ciò anche danno granate, che per la Maddening Tracker è perfetto. Per quanto riguarda le abilità, invece, è una build un po' strana. Sul ramo viola ci interessa potenziare il cooldown e il danno del cannone. Quindi andremo di tutte quelle abilità che ci danno danno, ci danno danno colpo critico, che vale sul cannone, perché il cannone può critare. Cooldown. Impegno va messo, perché possiamo ridurre del 60% il tempo di ricarica dell'abilità d'azione facendo una kill. e ci aumenta del 60% il danno arma. Come vedremo poi con, a breve, le altre abilità, ci servirà anche quando saremo a terra, questa cosa. E intanto cannone e due cariche extra, più danno per carica. Ramo blu. Ci interessa correre, come al solito, ci interessa aumentare un pochino il danno arma. Perché? Perché con Furia Cech è possibile andare ad attivare le abilità d'azione quando spammiamo l'abilità. Quindi se spammiamo l'abilità e finiamo a terra, le avremo tutte attive. Avremo 5 stack di ogni abilità. Quindi vuol dire massimi stack di slancio, massimi stack di impegno, 60% più un 20%. Insomma, capite che il danno c'è. C'è anche violenza violenta. C'è il braccio destro della morte. Per aumentare ancora una volta il bonus delle abilità uccisione, la durata. Praticamente durano un'infinità adesso, durano 15 secondi. Qualcosa del genere. È una cosa stupida. Ramo arancione non c'è nulla. Ramo verde sono andate un po' sulla tankiness, per lo scudo e per i danni. E ancora una volta CDR. Adrenalina per avere ancora CDR ricarica. Un pochino di tankiness. Intanto scendiamo anche nel ramo. 5 punti da servire freddo, che ci permette di spammare 9 intorno a noi, che fanno danno. Giusto perché il cannone non basta, facciamo anche 9 gelanti intorno a noi. E poi un punto in calmo e composto che, se congeliamo un nemico, ci dà rigenerazione di energia, ci dà scudo e ci dà velocità di ricarica da lui l'iterazione se serve. Ovviamente nessuna abilità secondaria che dobbiamo spammarle le clone in banda e in tracker. Per quanto riguarda i grandi guardiano, come al solito ce li ho tutti attivi. E caos 11. Andiamo a mostrare il devasto che fa. Siamo praticamente arrivati, quindi nel momento vi ricordo di iscrivervi per non perdervi le prossime build. Quindi, guardian angel in mano e si parte. Bello, ne? Vedete che la nova non fa quel gran che danno, però contro i nemici più piccoli è utile. Più stiamo lontani, più danno facciamo a quel super gigante, quindi ci possiamo allontanare per aumentare il danno. Vedete che il cooldown è praticamente un secondo e uno. E se vogliamo aumentare i nostri danni, un po' di clone in banda e in tracker nel mentre. Possiamo benissimo ignorare la situazione e tirare dritto. Avrei potuto andare a prendere duct tape mod così non prendevamo danno dalle nostre granate, ma sinceramente non mi interessa. Finiamo a terra. Non c'è problema, non c'è problema, siamo già di nuovo su. E poi si ritorna a spammare. Questa è una build dove si spamma. E ad ogni abilità d'azione guadagniamo una granata. Quindi le maddening tracker non le freneremo mai. Vedete che rimangono sempre sulle 13 e non si scollano. Insomma, l'avete capito. È una build stupida. Quindi direi di non fare anche le prossime zone così, ma di andare direttamente dal nostro amicissimo Tront. Eccoci quindi arrivati da Tront. Revolter. Spammiamo un po' di granate. E poi iniziamo a colpire il nostro amico Tront. Ricordatevi di non spammare tutti i colpi del cannone insieme. Perché il cannone si bugga se no. E vi userà 5 cariche e vi farà 1-2 colpi di cannone e basta. Non è molto worth come cosa. E vedete che il boss è già scoppiato. Quindi. Cosa succede però su un boss che tanka molto più di questo? Tipo Graveward? Andiamo a vedere. Eccoci arrivati da Graveward. Visto che dobbiamo aspettare il suo ciclo prima di poter arrivare a colpire il suo punto critico in tranquillità. Andiamo a spammare un po' di granate finché abbiamo il revolter attivo. Abbiamo spammato le granate. Adesso è tempo di colpire il punto critico di Graveward. Si è allontanato un po'. Andiamo a rispammare ancora le granate. E adesso colpiamo di nuovo il punto critico. Spammiamo ancora un po' di granate. E adesso andiamo a finirlo colpendo il punto critico. E' stato ancora più veloce di Tronte, tanto per dire. E ovviamente son finito sulla mia granata. Insomma, come funzionano queste build? L'avete capito. E' strana, ma funziona. Se invece volete una build di Zane un pochino più regolare, ma comunque molto forte, cliccate qui.